È stato un Obama in grande forma, the best of Obama, il meglio di Obama come si direbbe nelle compilation musicali, in tutti i mesi in cui l'avevo seguito e l'avevo ascoltato non l'avevo mai visto così pimpante, così in forma e soprattutto questa è una novità così aggressivo, così cattivo, direi arrabbiato, lui che aveva sempre fatto del suo essere un moderato, un uomo del dialogo molto conciliante e rassicurante la propria forza, ha tirato fuori le unghie e ha cominciato ad attaccare direttamente McCain dicendo che l'uomo ha una capacità di giudizio un po' sbagliata, è una maniera eufemistica di dire che McCain è un vecchio, è troppo vecchio per governare ed è esattamente risvolto il rovescio di quello che dirà McCain la settimana prossima, che Obama è troppo nuovo, diciamo pure troppo nero, anche se non si può dire, per governare gli Stati Uniti. Ha fatto un po' la solita lista della lavanderia, come si dice, toccando vari punti in maniera molto leggera, molto lieve, per esempio ha detto possiamo avere opinioni diverse sull'aborto ma certamente bisognerebbe ridurre il numero di gravidanze non volute, che è una maniera di non prendere posizione poi sull'aborto, ha detto per esempio che bisogna fare in modo che i nostri fratelli e sorelle, gay e lesbi, che possano andare a trovare gli amici malati all'ospedale, ma insomma questo non è proprio che voglia dire il matrimonio fra gay, quindi ha dato abbastanza soddisfazione, ma non troppo, a tutti i vari gruppi che si aspettavano da lui e di sentirsi rappresentati. Ora si tratta di vedere se quelli che lo guardavano con qualche perplessità, come per esempio le donne di una certa età, le donne mature che hanno votato per Hillary, saranno abbastanza soddisfatte, se si accontenteranno di lui in questo duello che è sempre più chiaramente un duello fra la speranza di cambiare e la paura di cambiare incarnata dai repubblicani. È dal 1947 che i democratici nei loro congressi, nelle loro convention, quindi parliamo di 60 anni, dicono che bisogna estendere l'assicurazione sanitaria a tutti, poi non si sa com'è, alla fine non viene fatto, io ho qualche dubbio che venga fatto anche questa volta, la promessa è di rigore, il mantenimento è più difficile, quello che invece ha colpito soprattutto è che lui ha parlato apertamente di ritorno all'energia nucleare, naturalmente in chiave sicura, di nuove energie alternative, di smetterla di trapanare la terra sperando di risolvere il problema perché non lo si risolve facendo altri buchi nella terra e poi che bisogna comunque liberare l'America da questa tossicodipendenza dal petrolio, lì forse non riceverà molti finanziamenti dai grandi petrolieri americani. McKenna ha fatto una mossa molto furba con questo breve spot in cui dice congratulazioni, questa è la tua sera, goditela senatore Obama perché da domani poi ricominciamo e infatti si ricomincerà oggi probabilmente con la scelta del vice, dell'ex governatore del Massachusetts, Mitt Romney, questo è il nome più probabile, lo sapremo tra poche ore e quindi lì ci saranno le controbordate, è tutta una campagna elettorale strana questa perché nessuno dei due può dire la verità, uno che dell'altro pensa che sia un vecchio rimbambito e non può più governare perché la Casa Bianca ha un lavoro duro, ha 72 anni, non è proprio un ragazzino e l'altro che pensa che Obama sia troppo inesperto, troppo nuovo e troppo nero per governare, quindi sarà tutta una campagna fatta di minuetti ma di coltelli poi nascosti nel giubbotto. La scenografia è stata come sempre molto meglio vista in televisione che vista dal vivo, perché dal vivo quella specie di tempietto greco-romano sembrava di essere sull'acropoli, infatti la chiamavano la baracopolis, faceva un po' ridere, invece vista in televisione era molto più sobria e l'allusione era evidentemente con quelle colonne ai lati al mausoleo di Lincoln, davanti al quale Martin Luther King aveva fatto il discorso del sogno e quelle finestre dietro volevano ricordare in fondo le finestre dello studio ovale dove sta il Presidente e dove Barack spera di andare. La scenografia non è stata particolarmente pesante, diciamo pure particolarmente cafona, non è stata un'americanata, anzi ho notato una certa sobrietà, quello che era imponente, perché non si era visto da generazioni, era l'immensità di questo stadio di football da 75-80 mila persone, anche più perché ce ne erano sedute sul prato dove di solito stanno i giocatori, che era onestamente in estasi, c'era gente che piangeva a sentire le parole di Obama che è stato bravo tra l'altro a non esagerare negli aspetti messianici, non ha parlato come un nuovo Cristo né certamente come un anticristo come viene dipinto dagli avversari, ma ha parlato come un politico che vuole vincere le elezioni facendo politica. Lui si riscrive da solo con gli aiuti di altri, tutti tendono sempre a dire che si riscrivono da soli, però certamente era molto obamaniano come discorso, ripeto con questa novità importante delle unghiette, delle graffiate che ha tirato all'avversario McCain e che gli restituirà subito, anzi già si vede che nei sondaggi sta aumentando, Barack Obama che stava scendendo, sta risalendo e ha preso punti di vantaggio su McCain, ma non illudiamoci perché la settimana prossima accadrà lo stesso per i repubblicani, è un po' come il tennis, adesso la battuta l'ha lanciata Obama e ha segnato un S, la settimana prossima il servizio passa a McCain e toccherà a lui fare un S se ci riesce. Credo che la vittoria finale andrà a chi riuscirà a conquistare le donne, insisto a dire che le elezioni americane camminano su gambe di donna e infatti sono le donne quelle che fanno vincere quando le fanno vincere i candidati democratici, penso che tutta la storia della ribellione delle donne, delle hilaristas contro Barack Obama per l'offesa fatta alla Clinton che poi si è risanata come abbiamo visto, passerà, non posso immaginare che le donne americane votino per McCain che già garantisce che la prossima Corte Suprema sarà contro tutti i diritti delle donne, quindi alla fine se dovessi scommettere, scommetterei su Obama.